Aveva iniziato da dipendente, assumendo poi il controllo del bar tabaccheria e minacciando sistematicamente il titolare e i suoi stessi colleghi. Da quel momento aveva messo in piedi un'ingegnosa truffa attraverso il concorso del 10 e l'8, da un lato omettendo di versare al monopolio di Stato parte degli incassi delle giocate e dall'altro appropriandosi delle vincite. I finanzieri della compagnia di Francavilla Fontana hanno sequestrato beni e denaro per 218 mila euro a un uomo già noto alle forze dell'ordine ponendo i sigilli al bar tabaccheria di Latiano del quale aveva assunto il controllo e indagato per truffa ai danni dello Stato ma anche per appropriazione indepita e violenza privata. La vicenda si è sviluppata in un arco temporale molto lungo, sei anni, dal 2016 al 2022. L'indagato assunto nel bar ne avrebbe presto di fatto assunto il controllo esautorando il titolare e minacciando sia lui che i dipendenti. In particolare avrebbe registrato nei terminali giocate al 10 e l'8 gran parte delle quali non sarebbero state poi corrisposte allo Stato. Quando dal monopolio sono giunti i solleciti di pagamento l'uomo avrebbe versato solo una parte delle quote periodicamente riuscendo a evitare un'azione giudiziaria immediata e appropriandosi di 140 mila euro alle quali si aggiungono altri 78 mila euro pari alle vincite realizzate indebitamente e accreditate sul proprio conto. Inoltre l'indagato si sarebbe appropriato anche di una parte degli incassi della stessa attività commerciale. Il decreto di sequestro emesso dal tribunale di Brindisi su richiesta della procura è arrivato dopo la denuncia del monopolio di Stato e dello stesso titolare del bar tabaccheria che risulta parte offesa nell'inchiesta giudiziaria.